Musica Nuovo appuntamento con l'informazione, questa nuova edizione del nostro Tg Giorno si apre parlando dei lavori del PNRR in provincia di Arezzo che sono stati illustrati nella sala della biblioteca proseguono a ritmo spedito, case, ospedali di comunità, nuove tecnologie ed è di oggi la notizia dell'arrivo di due nuove PET per la medicina nucleare. Direttore dei 90 milioni che vengono utilizzati fra fondi PNRR, fondi dell'azienda e articolo 20 a che punto siamo per quanto riguarda i lavori che riguardano la parte del San Donato e la parte aretina, le case di comunità e gli ospedali? Allora dei 90 milioni 50 sono destinati alla provincia di Arezzo, quindi diciamo la quota maggiore. Alcuni servono e sono serviti per avviare i lavori come all'ospedale San Donato per le sale operatorie, come per il pronto soccorso del San Donato, come per il pronto soccorso del Valdarno, proprio per innovazioni strutturali e impiantistiche. Una parte invece è destinata all'ammodernamento delle macchine, diciamo di particolare importanza la sostituzione dei due acceleratori lineari che sono delle importanti tecnologie per la cura dei tumori e poi le due macchine destinate alla medicina nucleare, di cui una munita di TAC-PET. Anzi, una notizia importante che posso dare è che da oggi sono attive le due gamma camere della medicina nucleare dell'ospedale San Donato. Io vorrei che fosse chiaro che il nostro Dipartimento Tecnico, sia pure con risorse limitate, ha gestito un volume, sta gestendo un volume economico così importante che mai ha dovuto presidiare e gestire. Lo fa con attenzione e cura, tanto è vero che tutti i cantieri PNRR sono già attivi su tutto il territorio aziendale, quindi anche in provincia di Arezzo. Cambiamo argomento. Dopo il botta e risposta di quasi un mese fa tra Comune e Museo archeologico, il consigliere comunale Menchetti torna sulla chiusura del Parco dell'Anfiteatro Romano. Continua lo scarso o nullo interesse dell'amministrazione comunale per il Parco dell'Anfiteatro, un luogo caro agli aretini ed al grande potenziale turistico. Lo afferma il consigliere di opposizione Michele Menchetti, che ricorda la convenzione stipulata tra il Comune e la Direzione regionale dei Musei della Toscana per la manutenzione dell'area. E su questo punto si chiede, testuali parole, quali siano le ragioni addotte dall'amministrazione comunale per non fornire l'aiuto richiesto per terminare i lavori, cosa che si verificherebbe se solo il Comune contribuisse per la cifra di 30.000 euro ampiamente accessibile, secondo Menchetti, che parla anche di scarsa trasparenza e di una certa leggerezza. Il consigliere cita una risposta ad una sua interrogazione in cui si affermava la riapertura su Via Margaritone. Ci passo spesso, conclude Menchetti, e la trovo invece tristemente chiusa. L'ultimo a fondo lo dedica alla perdita del patrimonio arboreo e si chiede come intenda muoversi il Comune per compensare. Luigi Scatizzi è stato confermato presidente provinciale delle Acli e quanto è emerso dopo il congresso che si è tenuto a San Giovanni Valdar. Continuità operativa è la parola chiave scelta dalle Acli che ha portato alla conferma di Luigi Scatizzi come presidente delle Acli di Arezzo. La prima riunione del nuovo consiglio provinciale eletto nel corso dell'ultimo congresso è terminata con il conferimento delle principali cariche dirigenziali per il quadriennio 2024-2028 con l'associazione che ha scelto di dar seguito a percorsi, progetti e linee di intervento avviate negli ultimi anni. Scatizzi sarà affiancato dai vicepresidenti Sergio Grazzini e Valentina Matteini dal responsabile dello sviluppo associativo Riccardo Sestini e dal responsabile amministrativo Roberto Poledrini mentre Emanuele Bani resterà ancora presidente del consiglio provinciale. Stefano Mannelli invece avrà il compito di rappresentare le Acli di Arezzo all'interno del consiglio regionale insieme ad altri tre rappresentanti che saranno eletti al congresso regionale in calendario sabato 9 novembre a Pisa. In fase di definizione le nomine del consiglio di presidenza l'organo esecutivo e amministrativo che dirige le attività della struttura aclista per attuare gli obiettivi stabiliti dal congresso e dal consiglio provinciale. Il prossimo momento di ritrovo sarà alle 18.30 di venerdì 8 novembre nella chiesa di San Pier Piccolo quando l'accompagnatore spirituale Don Antonio Corno celebrerà la Santa Messa in suffragio dei defunti delle Acli per ricordare coloro che hanno dedicato tempo, impegno e passione al servizio dell'associazione. Un aumento di stipendio per chi lavora nell'emergenza urgenza una categoria che ovviamente non può avvalersi della libera professione è quanto ha annunciato oggi ad Arezzo l'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini. Un sostegno importante per gli operatori dell'emergenza urgenza dell'area retina è arrivato nelle parole dell'assessore alla Sanità Simone Bezzini oggi ad Arezzo per la presentazione dei lavori del PNRR. Non basteranno certamente l'aumento che ovviamente spetterà loro visto il lavoro che fanno ma si tratterà anche di cercare di migliorare la risposta del territorio in modo che tante persone che continuano impropriamente a rivolgersi al pronto soccorso trovino sul territorio la risposta giusta. Siccome abbiamo una carenza di personale in tutto il paese, compreso nella nostra regione e siccome i dati che emergono dalle scuole di specializzazione non fanno presagire nulla di buono per il futuro perché le borse per le specializzazioni sono per una parte importante non utilizzate dai giovani medici che scelgono altre discipline noi dobbiamo fare un investimento straordinario per rendere attrattivo questo segmento della professione medica. Quindi aumento? Servono aumenti anche di risorse, delle retribuzioni dalla fase, diciamo, fin dall'inizio servono incentivi e sostegni nella fase della formazione servono retribuzioni più rilevanti perché ovviamente credo sia chiaro a tutti che chi svolge un'attività nei servizi di emergenza e urgenza non può fare la libera professione non c'è un tema solo di retribuzioni ma c'è anche un tema di condizioni di lavoro e questo lo si fa sicuramente nelle sinergie che vanno costruite dentro l'organizzazione ospedaliera l'investimento sulle case di comunità e sugli ospedali di comunità e sulle centrali operative territoriali serve a migliorare la presa in cura delle persone fragili, con cronicità, gli anziani e così via ma serve anche a ridurre l'accesso in proprio diciamo al pronto soccorso e ricoveri in proprio in ospedale. Andiamo adesso in Valdarno dove a seguito di episodi di vandalismo e furti il sindaco di Castelfranco Pian di Scò ha annunciato un giro di vite sulla sicurezza nel comune. La notte di Halloween i gnoti si sarebbero introdotti all'interno dell'istituto comprensivo Don Milani di Pian di Scò spaccando giochi e devastando alcuni interni un episodio che ha ricevuto la ferma condanna dell'amministrazione comunale che interverrà per far sì che cose del genere non possano risuccedere. Siccome non è la prima volta che avviene un fatto del genere bisogna necessariamente prendere dei provvedimenti perché non è accettabile che avvengano questi fatti nel nostro territorio e quindi installare anche dei dispositivi di videosorveglianza delle videocamere per in qualche modo cercare di dissuadere che questi fatti avvengano nel futuro. Videosorveglianza che l'ente sta già implementando nel comune anche a seguito di segnalazioni di furti avvenuti durante l'estate nel territorio comunale. Per cui è nostra intenzione anche installare dei sistemi di videosorveglianza in particolare sono già state installate due telecamere a Faella agli ingressi e agli usciti del contesto di Faella verranno installate anche tre telecamere a Pian di Scò e poi chiaramente anche a Castelfranco quando si troveranno delle risorse quindi il nostro obiettivo è di rendere un po' tutto il nostro comune chiaramente videosorvegliato. Verrà fatta poi una centrale che sarà proprio nella sede dei vigili per poter avere il quadro di tutte le operazioni e poi sarà in collegamento con le forze dell'ordine. Sono cinque anni che il comune di Arezzo insieme ad alcune associazioni porta avanti il progetto Crescere rivolto a bambini in difficoltà. Da cinque anni il comune porta avanti insieme all'associazione il progetto ESSERCI. Di cosa si tratta? È un progetto di inclusione che vede l'alleanza del comune di Arezzo insieme a molte associazioni insieme a Estra e insieme a Coingas dedicata a bambini con alcune disabilità che insieme ad altri bambini costruiscono percorsi e laboratori per sperimentare l'inclusione in maniera diretta producendo anche opuscoli sui temi più stringenti dell'attualità. Entriamo in un network di associazioni appunto del terzo settore che vedono un progetto in grado di maturare nella sua sostenibilità e nell'efficienza delle attività. Il nostro ruolo è quello di valutare gli aspetti psicologici di quello che è il concetto dell'inclusione e soprattutto della peer education come metodo educativo tra ragazzi con disabilità e non e stiamo avendo dei buoni risultati con partecipazioni che aumentano ogni anno di più. Quella che è la riabilitazione Questri per bambini e ragazzi con disabilità fa bene anche a tutti gli altri. Diciamo che il cavallo è un medico eccezionale per tutte le cose e per tutti i problemi che hai. In più con i ragazzini con disabilità se uno magari ha una disabilità fisica che il cavallo si mette comunque la sua fisicità per cui vedi dei ragazzini che magari a fare altri sport hanno problemi a cavallo non ce li hanno. Allora l'associazione Crescentro entra nel progetto facendo delle attività presso la casa del Pietro ma soprattutto nella realizzazione dell'opuscolo finale dove tutti i ragazzi vengono coinvolti con una cosa comune quest'anno il tema era il riscaldamento globale. Altre volte vi siete occupati di quali altri temi? Il bullismo è stato il primo tema e poi abbiamo affrontato vari temi dell'Agenda 2030. Torniamo a parlare del Valdarno perché dopo Arezzo Giorgio Vasari sarà protagonista anche a San Giovanni grazie alla mostra che si aprirà sabato 9 novembre presso il Museo delle Terre Nuove. A 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari e di Cosimo I de' Medici da sabato 9 novembre a San Giovanni Valdarno aprirà la mostra Giorgio Vasari e la Natività. Il Museo delle Terre Nuove ospiterà due dipinti uno di Vasari ritraente la Natività e l'altro eseguito da Alessandro Allori e che ritrae Cosimo de' Medici. Quel connubio di potere e arte che ha reso grande grandissimo Firenze e Rinascimento. Una mostra che sarà aperta fino al 12 gennaio 2025 e che è collegata direttamente a quella di Arezzo. Più piccola rispetto all'esposizione del capoluogo che conta 100 dipinti dell'artista ma che lega le due città. Pochi giorni fa è stata inaugurata da Arezzo una mostra veramente imponente con tante opere di livello e di pregio internazionale. Noi ne avremo una anche se più piccola collegata direttamente a quella di Arezzo. Due dipinti prestati dalla Galleria Borghese di Roma che hanno il compito di introdurre le celebrazioni su Masaccio. Vuole anche aprire la strada da essere un'anticipazione a quella che sarà un'esposizione più ampia, nutrita e autorevole che stiamo mettendo in campo per le celebrazioni masacesche. E Vasari è chiaramente il tradunione tra tutto perché è Vasari che parla diffusamente di Masaccio e Vasari tra l'altro che insieme a Giovanni Stradano ritrae in una opera molto nota Castel San Giovanni, San Giovanni Valdarno è un'opera che ha gli uffizi. Questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione. Prima dei saluti però vi ricordo cosa vi attende su Teletruria questa sera dopo l'appuntamento centrale con l'informazione quello delle 20 e 30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia che si occupa della stagione del Teatro Dovizi di Bibbiena. Seguirà 9 e 10 informazione ed attualità. La serata proseguirà poi con Intim condotto da Simona Santi Laurini e con la prima puntata della stagione di Sportivamente settimanale condotto da Andrea Lorentini al termine poi Caffè del Parco. È tutto grazie per averci seguito buon proseguimento in compagnia di Teletruria. Grazie a tutti per avercik attrazione um avanti a leggi leggi a leggi Autore dei sovrapposti